bella a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su un nuovo gioco una nuova meraviglia questo gioco si chiama ratchet and clan che come vedete già dal personaggio ratchet e non iniziamo a provarlo dopo alla fine del video vi lascio un sondaggio aprile 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 così così capito come devo fare dopo alla fine della storia mi ricordo dove sta fuori allora non posso spaccare questo 205 bulloni allora così devo fare ora ora dai 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 ora ha distruggito distruggito tutto distruggito tutto ora vuoi vuoi ma di me ma che non muoio io sto chiedendo vuoi quindi ragazzo gioca veramente una figata cioè ancora vedo il continuo faccio tutta questa parte e ora prendo questo libro scheda olo scheda sembra un libro ma è un olo scheda allora sto riprovando altre mille tini oltre per fare sto video però non so perché mi fa mi registra questa parte qua ok allora quando si sta lasciando bloccata fino a questo battaglio bloccato ok ok potresti essere assoluto come il ranger galattico uno spicciare spicciati ai cazzi no 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 vai 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 okay me hai sbagliato qui 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 allora così ora 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 c'è il boss ora 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 così 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 pensiamo a me pensiamo a me molti molti oddio 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 due 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 un gioco bellissimo per me per voi dopo vi lascio il sondaggio questo fria questa forte se questa parte finale a questa parte finale del video scrivendo se vi è piaciuto sì o no è solo da continuare e se no scrivete sotto il perché queste cose qua e noi abbandoniamo un attimo e lasciate like iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bye bye ciao 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 ciao